Altro filone dell'inchiesta, altra condanna per il broker vogherese Stefano Mutti, già condannato a sette anni di carcere per avere attruffato oltre 80 ignari risparmiatori, convincentoli ad investire nel re dei metalli preziosi, l'oro. L'ennesima sentenza di questa inchiesta, che prosegue ormai da quattro anni visti i precedenti, era attesa. Il 48enne originario di Sarezzano, sulle colline tortonesi, arrestato nel 2017 dalla Guardia di Finanza, è stato condannato a un ulteriore anno di carcere e a risarcire altri 31.500 euro ad un altro investitore, rimasto escluso dal processo principale, che si era concluso nella primavera di due anni fa con la condanna dello stesso Mutti, amministratore della Italpreziosi SRL, a sette anni con rito abbreviato, e di altri suoi presunti collaboratori, come Andrea Rigolli, condannato a cinque anni e sei mesi. In totale, secondo l'accusa, erano finiti nella rete di Mutti oltre 80 ignari investitori, convinti a versare i propri risparmi, oltre un milione di euro in tutto, pensando di comprare pregiati lingotti. Però, secondo gli inquirenti, in pratica Mutti e compagni erano riusciti a convincerli, sfruttando un nome identico, Italpreziosi, ad una società retina presente sul mercato da molti anni. La truffa era semplice, si convinceva ad investire denaro in oro, promettendo interessi molto elevati. In più, i truffatori risuscivano a convincere gli investitori a non ritirare le cedole periodiche, ma a reinvestirle. Quando qualcuno le richiedeva comunque, venivano pagate. Ma queste non erano dovute agli interessi reali del denaro investito, bensì a una piccola parte di denaro raccolto presso altri risparmiatori. Insomma, secondo le accuse, si sarebbe trattato di un movimento di denaro studiato già da Charles Ponzi nell'America degli anni 20, il cosiddetto schema Ponzi. I primi sospetti erano emersi proprio in Toscana, quando la vera Italpreziosi iniziò a ricevere telefonate di investitori lombardi e piemontesi che chiedevano conto dei propri investimenti.